E' solo la terza giornata di campionato, ma Vigortrani sud-est sarà la classica sfida testa-coda. Lo dicono i numeri dei primi 180 minuti d'eccellenza. La formazione è allenata da Benny Costantino e a punteggio pieno e con la rete inviolata. La sud-est deve ancora segnare un gol e si porta sul gruppone le due sconfitte all'esordio. L'incrocio al comunale potrebbe regalare il trissa ai padroni di casa, nascondendo però le insidie di un avversario costretto a non impantanarsi in fondo alla classifica. Così, seppur dopo solo tre giornate, i motivi di interesse attorno al campionato d'eccellenza non mancano. Se la Vigor punta a conservare il primato, alle sue spalle sono obbligate a non perdere terreno la Libertas Molfetta, lo Sporting Altamura e il Nardò. Delle tre, i murgiani hanno sulla carta l'impegno più agevole in casa contro il Castellaneta, ma anche il Nardò non dovrebbe avere grandi problemi contro lo Stuni. Di media difficoltà, invece, si annuncia la trasferta della Libertas a Bitonto contro una neopromossa in cerca del primo successo in campionato. I biancorossi, inoltre, devono fare i conti con le squalifiche arrivate dopo il pari con il Galatina, che costringerà a rivoluzionare la formazione titolare. Hanno tutte le ambizioni di recuperare terreno la Virtus Franca Villa, che attende un Galatina ancora imbattuto, ed il Mola, che dopo aver trovato il primo successo all'Ocorotondo, vuole confermarsi davanti al proprio pubblico sfidando l'Ella Staranto. Nel programma della terza giornata è quella tra Vieste e Novoli la sfida con la maggior somma di punti, mentre Casarano Ascoli-Satriano dovrà chiarire il ruolo dei Salentini in questo torneo. Grazie a tutti.